Tanti tanti anni fa, quando il progetto di recupero dell'ex tracciato ferroviario dentro la città di Pescara era sembrata un'idea avanzata ed ecosostenibile, quello che si immaginava non era certo un jet supersonico che percorresse la distanza da Pescara, Montesilvano e viceversa in una manciata di secondi. L'intenzione era piuttosto quella di dire ai cittadini, guardate c'è un'alternativa valida e per di più ecologica alla macchina, dunque utilizzatela. Poi altri cittadini o forse anche gli stessi si sono appropriati, visto che il progetto non faceva passi avanti, di quella che hanno chiamato la strada parco. Oggi però sono state scritte altre pagine e la filovia non sembra avere più ostacoli. Ieri il giro di verifica dei tempi di percorrenza ha comunque dato risultati soddisfacenti secondo tua. La verifica dei tempi di percorrenza, perché ieri è stato fatto questo qui, non è stata fatta una verifica sullo stato dei lavori o un'analisi inerente all'appalto, è stata fatta una verifica dei tempi di percorrenza. Consideri che le linee che sono adibite a quel tipo di percorso hanno un tempo di percorrenza stimato in 35 minuti ufficiale. I tempi di percorrenza ieri sono stati di 18 minuti, quindi vuol dire che si sono dimezzati i tempi di percorrenza. Quante più persone tenderanno a spostarsi sul mezzo pubblico, tante meno persone utilizzeranno il mezzo privato. Quando partire, con precisione, se partire su Pescara e Montesilvano insieme, se aspettare o meno il termine di alcuni lavori, verrà deciso dall'azienda, di concerto con i sindaci di Pescara e di Montesilvano. Il progetto che ci accingiamo ad avviare è provvisorio, perché in quella strada prenderanno dei mezzi full electric di 18 metri. La ridotta percentuale di carico degli autobus elettrici che è oggettiva verrà in parte compensata dall'aumento della frequenza, quindi dal maggior numero di mezzi che verranno impiegati su quella linea. L'appalto sarà a compliance con quello che è stato stabilito, chiaramente non potrebbe essere diversamente perché noi siamo un'azienda pubblica e non è che abbiamo intenzione di accollarci anche rischi per un'opera non eseguita a regola d'arte. Agiremo secondo le varianti approvate sicuramente. Prossimo passo? Prossimo passo la firma del contratto e l'avvio finalmente dei lavori per chiudere strettissimo il giro di posta e chiudere questa annosa vicenda che dura da troppi anni.